Siamo Massimo e Patrizia, famiglia itinerante del Cammino nella Catecomunale. Abbiamo 12 figli, qui con noi c'è Davide, il più piccolo padre sinodale. Siamo in missione in Olanda da 11 anni. Vorremmo che venga presentata la bellezza della famiglia cristiana e venga riscoperta l'enciclica dell'Umane Vite. Noi siamo molto grati, insieme a tantissime coppie del Cammino, a Paolo VI per l'enciclica Umane Vite, perché è stata per noi, come dice la lettera di San Giovanni, i comandamenti del Signore non sono gravosi. Il Salmo 18 dice che i comandamenti del Signore danno gioia. Ecco, per noi non è stato affatto un peso insopportabile. Desideriamo che venga riproposta la bellezza dell'Umane Vite e vengano invitate le persone ad accoglierla con fede. Ma per accoglierla con fede bisogna far crescere il battesimo. Quindi è urgente aprire nelle parrocchie un cammino di iniziazione cristiana che porti l'uomo a una fede adulta, veramente.